Giocolieri, clown, mimi, bikers, musicisti, cantanti, artistici, ercensi, cantastorie, mangiafuochi, trampolieri e tanto altro ancora. Non è il paese dei balocchi immaginato da collodi, ma una bella e consolidata realtà che si svolge in questi giorni ad Eboli, in provincia di Salerno. Oggi e domani si terrà la quinta edizione dell'Eboli Baskers Festival, in collaborazione con il Comune della Piana del Sele e la partecipazione del CEA artistico di Eboli. Una rassegna internazionale di artisti di strada che si terranno le suggestive vie del centro antico di Eboli. Tante e spettacolari le esibizioni da perdere il fiato. Stanno arrivando artisti internazionali proprio perché il nome sta crescendo, quindi c'è attenzione verso questo evento. Averli qui rappresenta un ulteriore motivo aggiunto, che è quello che questo nostro Festival degli Artisti di Strada ormai sta superando in tempi molto stretti anche eventi rinomati con dieci anni a meno, quindici anni, come qualcuno che si svolge anche in altri territori. Porta non solo tanti turisti, ma è diventato ormai forse uno degli eventi più importanti in assoluto che abbiamo nella provincia di Salerno. Perché ormai l'EBF in soli cinque anni ha raggiunto numeri entusiasmanti con un coinvolgimento anche inaspettato da parte di tanti artisti che ormai vogliono venire qui ad Eboli, visto come è strutturato e organizzato l'evento, oltretutto la bellezza del nostro centro antico, la rete capillare che quest'anno si è messa in campo, in modo particolare grazie a Weboli, grazie a Vito Leso, grazie a tutta l'associazione che ha creduto fortemente in questo percorso, al direttore artistico Paolo Fuggione. Quindi c'è davvero una bella realtà fatta di ebolitani che hanno creduto insieme a noi in questa grande scommessa che ripeto è diventato un momento di crescita culturale, di aggregazione, di divertimento non solo per i bambini ma per le intere famiglie e poi anche la possibilità di poter apprezzare le bellezze del centro antico e le degustazioni della nostra ristorazione che è di alta qualità. Grazie.